Katia ma cosa fai? Allora, io e Angie ti lanciamo una sfida Vediamo chi fa più canestri Oh, chi perde paga la scena eh Va bene Ok Taglio io, taglio io Ah, scusa Vai Ok Inizia a voi Lasciamo la sfida Ops Vai, vai, vai Guardi però Non vuole fare il livello complicato Oh, Giulia Che piace Vai, vai, Giulia, ce l'hai, ce l'hai Vai Vai, hai chiuso? No, no, prego Vai, vai Pressione, pressione Eeeh Vieni qua il sacco Lo fa la scuola Che cazzo non devo dirlo, non sa Per l'orgoglio Ti prego Per l'orgoglio Ti prego Per l'orgoglio Per l'orgoglio Guarda, 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 becca Cianestri ma non ho fatto Mi piace Eeeh Cena Ecco fino Grazie Perchè abbiamo malattato Grazie Grazie Buono 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 Buono